Luca Conti, giornalista e blogger, qual è l'importanza del network nelle relazioni business online? A mio avviso il network è fondamentale, chiaramente dipende dal business di cui stiamo parlando. Credo per i liberi professionisti e per le piccole e medie imprese sia assolutamente fondamentale e credo sia importante anche per fare carriera nelle grandi aziende. Perché è importante? Perché di fatto è uno strumento che noi siamo abituati a usare da sempre nelle relazioni del mondo fisico di tutti i giorni. Noi tutti abbiamo, dalla scuola all'università, alle prime esperienze di lavoro, un network di contatti che ci ha raccomandato, che ci conosce, che ci veicola attraverso il passaparola. Il network e il social networking non sono altro che un potenziamento che abbatte le barriere dello spazio e del tempo rispetto a questa abitudine che per noi, per chi lavora, è consolidata nel tempo. Con il social networking non facciamo altro che mettere a sistema e potenziare al massimo le relazioni che abbiamo durante il nostro percorso lavorativo, nell'esperienza di tutti i giorni, dalle conferenze a nuovi clienti, vecchi clienti e potenziali clienti che ci vengono da altri membri del nostro network. Non sono poi da sottovalutare quelli che si definiscono i legami deboli, ovvero magari persone che abbiamo incontrato una sola volta, che abbiamo conosciuto come relatore un convegno e che magari apparentemente sono legami di poco valore. In realtà, non io, ma dati scientifici affermano che poi nella realtà quotidiana chi porta il vero business sono proprio questi legami.